Tutto in posti che non riconosco, con donne che non ricordo. Mi sento di nuovo vivo. Va bene, ho letto abbastanza. Nada? So che nada significa niente, so che giorno è, so che anno è, so che questo motore ha 8 cilindri e nonostante abbia letto due diari, non ho alcun ricordo di chi diavolo io sia. Brutale. E questa dovrebbe riempirmi? Beh, sì e no, tecnicamente sì, dato che sei un vampiro. Strano. Realisticamente parlando, no, perché sei già tu. Ah, sì, l'insaziabile vampiro assetato di sangue, detto lo squartatore di Monterey. Siamo solo al 1920, amico. Beh, scusa, ma è troppo da digerire. Sei un vampiro, non un cavernicolo. Quindi, fammi capire, ti ho aiutato a rubare quest'auto, ho scoperto di essere un vampiro che ha ucciso suo padre, ma non posso inquinare. Hai dei sani principi, Stefan, ma una strega di 2000 anni ti ha cancellato tutti i ricordi. Già, scommetto che quella strega di 2000 anni guida più veloce di te. Aspetta, fammi indovinare. Fratello divertente, fratello prudente. Che cosa fai? Ti fidi di me? Ho un'altra scelta? No. Ehi! Ho capito, sei tu il fratello divertente. Che cosa fai? Grazie per la visione!